Il porto era una cosa a sé, una cosa affascinante e pericolosa all'epoca. Questi locali di cui si parlava, perché poi era piuttosto fatiscente, all'epoca, su queste strade, tutto pazzi, c'erano dei topi che erano più grossi dei gatti. Ho iniziato, vabbè, ho avuto l'aiuto dei miei colleghi, del mio titolare, mi ha insegnato, ha spiegato il porto, cos'era, e allora ho cominciato anche ad andare in banchina, a vedere un po' come lavoravano. Mi ricordo quando ero al centro di meccanizzazione, era la società Ente Compagnia, e mi avevano distaccato per la gestione dell'ufficio, come amministrativo, e avevamo comprato dei carrelli nuovi, dei Kalmar, quindi venivano direttamente dalla Svezia. E' arrivato giù l'autista, lui parlava solo tedesco e io francese. Cioè, più o meno io qualcosa di tedesco so, ma poco e niente. E se era simpaticissimo, questi carrelli sono arrivati a Tranche. La volta dopo è arrivato col vocabolario, che così ha detto ci capiamo. Il vocabolario non mi ricordo se era svedese oppure tedesco, italiano, non me lo ricordo più. Tanto simpaticissimo quello lì. Poi vabbè arrivavano, a parte i vari rappresentanti, poi sono arrivati appunto i tedeschi, mi sembra, per vedere questi carrelli, perché avevano preso anche un prototipo, quindi sono venuti a vedere, eccetera. E' la cosa che loro hanno tutto il giorno lavorato, alle 5 in punto hanno smesso, si sono seduti e hanno cominciato a bere birra. Però fino a che hanno lavorato niente. Difatti erano giovani, ma con la loro bella pancetta da birra, sì. Io al porto ci sono entrata volentieri, ci ho lavorato volentieri, mi sono stata bene, e ancora adesso, io amo il porto, come forse tanti con cui, ex colleghi che ho parlato, il porto per me è un'altra dimensione. Si lavora, cioè io ho lavorato a contatto con i portuali, con i miei colleghi dell'ente, si lavora, si dice panna il pane, però poi è finita lì, ci si trova fuori, si è amici come prima. Cioè, io se non avevo l'occasione di andare in pensione e fossi rimasta a lavorare in porto, dentro la cinta, come si dice, non avevo nessun problema. Cioè, a me è piaciuto lavorare al porto e tornarsi indietro, lo rifarei.